Un ciao a tutti da Rosi, appunto a inizio della nostra vetrina con Autoservice e quindi la parola subito a Pietro perché abbiamo tantissime occasioni. Ciao Rosi, ciao a tutti. Autoservice, vi ricordo dove siamo, siamo a Robbiate, via delle Rovedine 36 e vi ricordo cosa facciamo. Quindi siamo un'officina autorizzata Mercedes, Smart Jeep e Mercedes veicoli commerciali. E come vetture trattiamo ovviamente i nostri marchi, quindi abbiamo Jeep, chilometro e zero, Mercedes, chilometro e zero, Mercedes e Volkswagen. Quindi le vetture, quelle aziendali della fabbrica, cosa sono? Sono vetture che vi spiego tutte le volte che ci vediamo, però è giusto ricordarlo. Sono vetture utilizzate dai dipendenti della fabbrica per un tempo che va da 12 a 24 mesi, con un chilometraggio che può variare dai 6.000 fino ai 40.000 chilometri. E di questo prodotto troviamo quasi tutta la gamma Mercedes, quindi a partire dalla classe A, quindi il nostro prodotto di punta sulle vetture Volkswagen, quindi la vettura più richiesta, fino ad arrivare anche a classe S, cose un po' più particolari. Parlando appunto di Volkswagen, voglio parlarvi di una classe A. classe A, 160 benzina, quindi il classico motore 1.3 da 109 cavalli, una vettura equilibrata nelle prestazioni ma soprattutto nei consumi, una vettura ben accessoriata, quindi il cerchio in lega, piuttosto che l'interno pelle tessuto, le luci interne ambient, abbiamo il Android Auto Apple CarPlay e quant'altro. Ma perché vi parlo di questa? Vi parlo di questa perché partiamo da un prezzo fantastico, qua partiamo da 24.900 euro. Vettura del 2022 che ha percorso più o meno 17.000 chilometri, quindi poco utilizzata, pochissimo tempo, un anno e qualche mese di vita, però un prezzo veramente interessante perché comunque sia questa vettura, sul nuovo partendo da zero, siamo a 38.000-39.000 euro in base agli accessori, quindi un prezzo estremamente interessante. Di classe A ne vedremo tanti in questa puntata perché abbiamo chilometri zero, come vi dicevo prima, quindi benzina, diesel, lì abbiamo versioni un po' più accessoriate, quindi premium o come oggi si chiamano le versioni nuove, l'Advance A&G, abbiamo sport come queste che vediamo adesso, i Volkswagen, quindi abbiamo questa qua una fantastica classe A 250e, di cosa parliamo? 250e parliamo dello stesso motore, 1.3 benzina da 160 cavalli più un motore elettrico da 102, ed è una cosa fantastica perché questa vettura, realmente noi l'abbiamo in uso da farvi provare e da poter testare con le vostre mani, questa vettura è una vettura che in solo elettrico percorre quasi 60 chilometri, quindi gli spostamenti quotidiani si possono fare totalmente ed esclusivamente con il motore elettrico. In caso di occorrenza, quindi il viaggio lungo, il weekend, non si ha l'ansia e la preoccupazione di dover ricaricare la vettura perché abbiamo il nostro carburante, noi facciamo il nostro pieno, la vettura viaggia a benzina normalissima, si ricarica intanto la batteria e siamo pronti per andare. Questa qui è una vettura molto molto interessante, tra l'altro vengono proposte a un prezzo anch'esso interessante perché troviamo vetture come questa 2022 Sport con una media di chilometri intorno ai 20.000 ha un prezzo che parte a 32.500 euro, tenete conto che questa invece nuova, non Volkswagen, partiamo da un prezzo proprio appena appena sotto i 50.000, quindi il risparmio è enorme sulle plug-in. Poi, come dicevo, abbiamo motorizzazioni normali, abbiamo una 200 benzina a cambio manuale, anche qua una piccola parentesi sul cambio perché Mercedes non produce più vetture cambio manuale ma produce soltanto cambio automatico dal gennaio di quest'anno. Quindi le cambio manuali sono diventate merce rara, diciamo. È vero che tanti storceranno il naso, però l'appassionato della vettura con la sua frizione, col cambio, c'è ancora. Queste qua sono delle vetture disponibili a un prezzo sotto i 30.000 perché la troviamo dai 27-27.500, ben accessoriate perché la Sport è sicuramente più accessoriata della prima che abbiamo visto, è un prezzo interessante. Ovviamente, cambio automatico, possiamo continuare a vederne altre 10 di classe A, ci sono tutte le motorizzazioni, benzina e diesel, e le cifre sono quelle. Come vi dicevo, classe A, chilometri zero, advanced Aenghe, quindi versione con tutta l'allestimento Aenghe. Ovviamente le chilometri zero, una cosa che non ho precisato prima, sono già tutte le versioni restyling, quindi l'ultima serie che è uscita con il nuovo faro, il nuovo volante, il cockpit aggiornato e il tunnel centrale senza più il touch. Questa qua è una versione Aenghe, quindi 180 diesel, motore 2000 turbodiesel da 116 cavalli, tetto apribile, fari alle cerchi da 19, pacchetto super accessoriato e anche su queste chilometri zero qui c'è un forte sconto. Cosa vuol dire? Che è una vettura che si porta a casa a 44.500 euro. Proseguendo, sempre su chilometri zero, abbiamo una vettura un po' più familiare, un po' più spaziosa all'interno, un po' più confortevole, sempre un chilometri zero. Chilometri zero sono tutte targate ottobre 2023, quindi sono vetture nuove, nuovissime, che hanno perso forse qualche giorno di garanzia, ma proprio niente. Parliamo di una classe B, sempre una Progressive Advance Plus, cambio automatico perché non fanno più il manuale come dicevamo prima, 180 diesel, 2000 turbodiesel, 116 cavalli e una vettura che viene proposta a 38.500 euro. Di classe B ovviamente abbiamo anche le IHW, come quella che vediamo qua, sono vetture 2021-2022, benzina, questa qua in particolare è un 180 benzina, quindi 136 cavalli, benzina, cambio manuale da 27.900 euro. Anche qua stessa cosa della classe A, abbiamo possibilità di vedere diversi colori, motorizzazioni, manuale, automatico e allestimenti. Un'altra vettura della gamma Mercedes che sta riscuotendo un successo notevole, sia chilometri zero come quella che vediamo qua, che i HW, che ne abbiamo in arrivo diversi e potete andare sul nostro sito a vederlo www.autoservicearobbiate.it, la GLA. GLA, anche questa, chilometri zero, ottobre 2023, è una Progressive Advance Plus, 180 diesel, 2000 turbodiesel, cambio automatico. Anche qui è una vettura che dal listino si risparmia 9.000 euro. Quindi, chilometri zero, scusate, con un prezzo interessante, gli HW con un prezzo ancora più interessante. La differenza vera, dov'è che la chilometri zero è già l'ultima serie, ahimè, la GLA per il momento sono ancora pre-restyling. Però, anche lì, ci stiamo lavorando, arriveranno anche, ovviamente, le restyling. Vi parlo di una vettura che, in questo momento, sul programma GLA ha un momento di grazia, ovvero ha un prezzo fantastico. Parlo della nuova classe C Station Wagon. Abbiamo C200 turbodiesel, C220 turbodiesel 4x4. Le versioni sono la versione sport per tutte e due, quindi super accessoriate. Non ve lo sto neanche a raccontare tutto quello che hanno le vetture, perché ormai non manca nulla su queste vetture. Ma vi voglio raccontare del prezzo. Queste qua sono vetture 2000 turbodiesel da 170 cavalli, già ibride. Quindi, 23 cavalli di elettrico, dove la vettura è omologata ibrida, quindi non abbiamo problemi a circolare da nessuna parte. Cambio a nove rapporti, vetture del 2022 e su una 200 diesel partiamo da 39.900 euro. Tenete conto che la classe C nuova, su questa versione, parliamo di 68.000 euro. Quindi, stiamo parlando di quasi 30.000 euro in meno su una vettura praticamente come nuova. Abbiamo anche la 4x4, con il motore 200 cavalli, sempre ibrido, quindi con una piccola parte di elettrico. Quattro rotomotrici, anche lei, cambio automatico. Costa qualcosa in più, siamo a 45.500 euro. Però anche qui parliamo di uno sconto rispetto al listino nuovo, che è incredibile. Cioè, uno al momento che viene pronunciato il prezzo dice, ma cos'hanno che non va? Le macchine sono da vedere, sono qua da vedere, sono fantastiche, sono nuove. Hanno fatto circa 30.000 chilometri. Hanno un prezzo veramente stravigliante. Adesso invece, passiamo dallo station alla sportiva. Voglio parlarvi di CLA Coupé. Questo qua è già modello nuovo, restyling. E in questo momento, su questa vettura, fino a fine anno, Mercedes ha riservato degli sconti particolari. Quindi, si può acquistare questa vettura con il 20% di sconto. Quindi, è una chilometri zero, dove si vanno a risparmiare più di 10.000 euro dal prezzo di nuovo. È un 200 diesel, ma anche di questa ci sono altri colori e altre motorizzazioni disponibili. Però ci tenevo a parlarvene perché abbiamo il 20% di sconto. Quindi, abbiamo uno sconto medio di 12.000 euro su questa vettura qua. È una vettura, anche questa, da venire a vedere perché ne vale veramente la pena. Eccoci qua, siamo all'esterno perché non volevamo dimenticarci di Jeep. Noi, ovviamente, siamo anche Jeep e da noi potete trovare anche tutta la gamma chilometri zero. Quindi, da Renegade, in vari colori, come potete vedere, dal bianco al giallo li abbiamo tutti. Abbiamo Compass, Compass li abbiamo sia a chilometri zero che usate. Stessa cosa abbiamo Renegade sia a chilometri zero che usate. Ma qui potete trovare benissimo anche la nuova Avenger. Potete venire a vederla, salirci, provarla, senza problemi. Ovviamente, sul sito, oltre a questo, già che siamo fuori, prendiamo l'occasione per parlarvi dell'usato. Perché da noi, ovviamente, potete trovare anche l'usato che viene ritirato sulla vinta delle Volkswagen, dai chilometri zero. Quindi, sul sito, che vi ricordo ancora una volta, www.autoservicerobbiate.it, potete trovare tutto il nostro parco di usato. Ovviamente, l'usato varia chilometraggio, varia tutto, però sono tutte vetture certificate, controllate, prima di essere messe in vendita. Pietro, siamo arrivati proprio alla fine, direi, come avete visto dalle panoramiche, ci sarebbero state tantissime altre vetture da presentare, come Smart, insomma, tantissime davvero. Ma non abbiamo il tempo, quindi visitate il sito, ma soprattutto venite direttamente qui. Grazie Rosi, grazie a tutti. Grazie e buone feste a tutti. Ciao. Ciao.